Eh no, la risposta non sei tu per questa volta, anche se capisco la confusione, perché questa divinità ha alcune caratteristiche simili alle tue, ma ha un'origine ben diversa. Il culto di questa divinità infatti nasce nella regione indo-iranica nel secondo millennio avanti Cristo e giungerà a Roma solo nel primo secolo avanti Cristo, diffondendosi qui come culto misterico, come dice la parola stessa quindi legato ai misteri, una cosa da iniziati insomma. E infatti sono ben sette i gradi di iniziazione a questo culto ed ebbe particolarmente successo tra i soldati romani perché si tratta di un culto salvifico, cioè un culto che ti promette la salvezza eterna. Questa divinità nella maggior parte dei casi viene rappresentata nell'atto di uccidere il toro in sacrificio. Ma la simbologia che circonda questa divinità è molto più ricca e molto più complessa e avrebbe bisogno di un video a sé. Anche a Roma questa divinità è legata al culto del sole e addirittura a un certo punto verrà assimilata al sol invictus, cioè al sole invitto, il sole che non viene vinto, festività che si celebrava il 25 dicembre. Ma a questo punto faccio i miei complimenti a chi aveva risposto alla domanda trabocchetto di Natale con Mitra. Bravi!